Anche Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha voluto celebrare il gol dell'esterno della Lazio Mattia Zaccagni in Croazia Italia. Di seguito le sue parole sul suo canale YouTube. Siamo agli ottavi ed è tutto merito di Zaccagni, perché se non avesse segnato saremmo stati eliminati visto che non rientravamo nelle migliori terze. Ma si è parlato di Zaccagni? Ho visto grandi racconti sulla discesa di Calafiori e non sul grandissimo colpo d'artista di Zaccagni. Ho sentito anche dire, a Zaccagni bastava buttarla dentro, ecco io non so se neanche a gioco fermo e senza avversari al primo minuto anziché all'ultimo qualcuno sarebbe riuscito a fare quel gol Zaccagni a un giocatore che va celebrato. Invece ho visto che si è dato molto spazio al video del bimbo e di sua moglie Chiara, bellissimo e mi sono commosso anche io. Ma Zaccagni ha una storia, ha delle qualità, delle caratteristiche, giocava nel Verona quando scopriva talenti e secondo me tutto ciò, è stato un po' sorvolato.